Torna la competizione che premia Balcone Fiorito Più Bello nel centro storico di Sulmona. Tra i negozianti baristi proprietari di B&B e produttori di confetti lungo corso a video sono già tanti gli iscritti a concorso promosso anche quest'anno dall'Associazione Fabrica Cultura per abberire gli angoli più suggestivi della città vecchia, pronti a sfidarsi colorando le stelle sulmonese, sfoderando creatività e originalità. Un'iniziativa che ha ricevuto il plauso della Presidenza del Consiglio Comunale, come ha detto in una nota la Presidente di Fabrica Cultura, Anna Berghella. Se il numero di iscritti a concorso cresce vuol dire che la prima edizione è piaciuta un po' a tutti. In tanti si stanno cimentando per all'estere i balconi e coinvolgendo anche gli amici. Ci fa piacere anche notare che il concorso è stato promosso nei comuni di Prato-La Peligna e Raiano. È un ottimo modo per fare rete, aggiunge la Berghella. Balcone Fiorito è un'iniziativa che coinvolge un po' tutti quanti. Dobbiamo essere tutti orgogliosi della nostra città e quindi chi ha un balcone nel nostro centro storico si deve sentire orgoglioso e si deve sentire protagonista. È come quando aspettiamo una persona importante a casa che si mette il vaso di fiori. La stessa cosa sui nostri terrazzi. Girando col naso all'insù si vedono veramente tanti tanti angoli nuovi, allestiti, rinnovati. Fa veramente piacere che questa iniziativa, noi di Fabrica Cultura siamo particolarmente orgogliosi e contenti che questa iniziativa stava prendendo piede. Per aiutare tutte le persone che vogliono partecipare a Balcone Fiorito abbiamo chiesto all'edicola di Piazza 20 Settembre, a Fabrizio, di rendersi utile. Lui distribuirà le schede per partecipare e le raccoglierà, così non c'è più bisogno di internet. Si può andare su www.fabbricacultura.it per scaricare la scheda, ma si può andare tranquillamente in Piazza 20, ritirare la scheda, riempirla e si verrà iscritti al concorso. La partecipazione al concorso è aperta a tutti i proprietari di balconi e terrazze che si affacciano nel cuore antico della città. Tutto dovrà essere pronto per il 21 luglio con durata prevista almeno fino al 3 agosto prossimo. Dalla di conclusione della giostra cavaleresca. Per aderire si dovrà compilare il modulo disponibile sul sito internet www.fabbricacultura.it, inviarlo all'indirizzo email presidentechiocciolafabbricacultura.it oppure consegnarlo presso l'edicola di Piazza 20 Settembre. Tre i premi in denaro previsti per i vincitori scelti da un'apposita commissione, 300 euro al primo classificato, 200 euro al secondo e 100 al terzo. Altri tre premi inoltre sono stati aggiunti da alcuni imprenditori locali per spronare la valorizzazione della zona all'interno delle antiche mura. Buoni per un valore di 100 euro da spendere in prodotti per il giardinaggio nel suo mercato Pinque Conad di Via Salusti a Sulmona. Un buono da spendere in fiori e piante presso garden dei parchi in via Ancinale. Uno sconto di euro 500 per il rifacimento della facciata o del tetto del palazzo a cui il balcone appartiene, offerto da Gas Autotrasporti.